hello everybody ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube oggi dopo tantissimi mesi vi riporto sul canale un video dove vi svelo un trucchetto fenomenale questa volta non si tratta di ciglia da urlo in due minuti ma di come avere labbra più grandi con due step praticamente di cui uno può essere omesso perché non va fatto sempre mi va di fare proprio un video apposta per svelarvi questo trucchetto perché un sacco di persone tra cui mia zia qualche settimana fa ero andato a trovare mia nonna mi guarda e mi dice perché non ho scoperto da tantissimo questo metodo mi guarda e mi dice andrea ma cosa hai fatto alle labbra e io mi sono messo a ridere ho detto zia non ho fatto niente cioè e allora sono qui oggi per svelarvelo anche se è una cavolata ricordatevi di lasciare un mi piace al video se volete supportarmi in qualche modo partiamo subito allora come primo step io vi faccio vedere vi mostro uno scrub labbra che vi serve per andare a eliminare tutte quelle cellule morte che sulle labbra si formeranno praticamente sempre perché come mi avevano spiegato un sacco di tempo fa le labbra sono l'unica parte del nostro corpo che non produce olio e quindi non va ad idratarsi da sola quindi hanno bisogno proprio di una cura più particolare da parte nostra quindi partiamo con lui per non fare casini mi sono preso una ciotolina qui davanti a me perché non posso andare in bagno quindi vado così e massaggio bene soprattutto sul contorno labbra oltre che va bene la parte centrale questo scrub vegan che è fatto da zucchero è commestibile quindi una volta che voi finite lo scrub potete direttamente leccarvi le labbra e andare a mangiare appunto tutto ciò che si è formato però a me fa schifo questa cosa perché non mi va di mangiare anche le cellule morte che sono andata a eliminare con lo scrub quindi direttamente con un tovagliano faccioletto vado a rimuovere il tutto vado a rimuovere tutti i rimasugli con un tovagliolo ok a questo punto proprio al tatto toccandomi le labbra saranno super lisce perché appunto sono appena state scrabate quindi sono state appena rigenerate andiamo a mettere un po' di burro cacao io utilizzo solitamente quello della marca Lavera che è fenomenale però in questo caso utilizzo quello dei Provenzali e la rosa moscheta rosa moscheta quindi andiamo ad applicare il burro cacao le labbra a parte che sono belle rosse belle sono proprio già visivamente un po' più grandi cosa facciamo? Qual è questo trucco che appunto devo svelarvi? allora un fondotinta qualsiasi quello che avevo in casa ultimamente sto scoprendo un po' di cose che non mi piacciono sulla produzione di make up in generale magari ve ne parlerò meglio su Instagram l'importante ecco l'unica cosa deve essere del vostro colore di pelle del vostro sottotono se avete sottotono giallo comprate un fondotinta insomma avete capito? allora praticamente questa zona del nostro viso se ci fate caso è un pochino più scura anche rispetto a tutto il resto del viso quindi voi col fondotinta cosa andrete a fare? andrete a delineare questa zona adesso vi faccio vedere come e andate inizialmente a metterlo qui sotto andate leggermente fuori nel senso a questo punto cosa faccio? vado praticamente a delineare il contorno labbra adesso vi faccio vedere togliete il fondotinta che sarà andato sulle vostre labbra ultimissimo step andate con un cotton fioc a ripulire praticamente il fondotinta che sarà andato quando avete fatto questo movimento sulle vostre labbra quindi con un po' di saliva con un po' di acqua andate a delineare nuovamente le vostre labbra vado anche a mettere un altro po' di burro cacao a poco e le vostre labbra saranno rifatte in due secondi amici belli come avete visto questo era un trucchetto uno semplicissimo due che può essere fatto da chiunque l'importante è che abbiate un fondotinta lo scrub potete farlo benissimo con un po' di zucchero di canna un po' di miele un po' di olio un po' di quel che avete in casa e avrete delle labbra super nutrite in due semplici step quindi se siete arrivati fino a qua a guardare il video mi raccomando lasciate hashtag labbra da urlo sotto nei commenti ci tengo tantissimo così saprò che siete arrivati fino a qua a guardare il video sto parlando tantissimo se non avete visto la mia ultima cover ve la lascio qua perché anche sul canale musicale ci sto lavorando tantissimo quindi mi fa proprio piacere se mi supportate anche là come fate già qua vi ringrazierò sempre grazie di tutto un bacio grande al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti